Sale la protesta contro l'esternalizzazione dell'asilo nido comunale Fantasia dei Bimbi. I sindacati hanno raccolto oltre 2200 firme contro una decisione dell'amministrazione di Udine che ritengono non giustificabile né dal punto di vista economico né da quello della qualità del servizio. Ci sono otto educatori e tre collaboratori che a tempo determinato termineranno la loro esperienza lavorativa e andranno a casa. E questa è un'ulteriore nota dolente che noi abbiamo sottolineato all'amministrazione che in prima battuta ci aveva promesso di trovare delle soluzioni. E poi alla fine, assolutamente, ci ha sbattuto la porta in faccia e queste persone purtroppo andranno a casa. Non trova neanche una giustificazione economica la chiusura o meglio ancora l'esternalizzazione dell'asilo nido perché il comune comunque ha introitato ad oggi circa 8 milioni di euro per poter fare nuove assunzioni. E ci chiediamo di questi 8 milioni cosa ne vogliono fare? Perché non assumono e perché non mantengono l'asilo nido pubblico con personale pubblico? Fantasia dei bimbi è stato il primo nido comunale della città, fondato nel 1976. Con la sua esternalizzazione ne rimarrà solo uno in città, in gestione pubblica. Il problema è che da questa amministrazione ci sia sempre stato un no deciso a cercare di trovare una soluzione. A differenza come invece sta avvenendo al comune di Trieste dove l'opposizione di centro-sinistra è riuscita a strappare alla maggioranza di centro-destra il congelamento dell'esternalizzazione del nido di Roriano. C'erano quattro nidi aperti comunali, piano piano sono stati esternalizzati, questo è il penultimo. Abbiamo paura che anche l'ultimo nido venga esternalizzato e non solo, che con questa concezione vengano esternalizzati anche dei servizi assolutamente indispensabili per i cittadini perché il servizio pubblico è sinonimo di qualità e noi tutti i sindacati lutteremo perché questo non avvenga.